13 medici in servizio ogni giorno dal 3 luglio al 3 settembre per un totale di 7.664 ore. Pronto a partire da lunedì il servizio di guardia medica turistica attivato dalla TS della montagna nei territori del medio altolario della Valtellina, della Val Chiavenna e della Val Camonica. La direzione generale di via Sauro tenendo conto dei dati di affluenza turistica e di richiesta sanitaria ha apportato alcuni accorgimenti migliorativi per rendere il servizio più omogeneo e fruibile ad esempio incrementando le ore di presenza nel distretto del medio altolario e accorpando il servizio nell'area compresa fra Aprica e Cortenogolgi. Il servizio offerto a persone non residenti come turisti, villeggianti e visitatori occasionali assicura la continuità assistenziale nelle località di villeggiatura più frequentate. Al medico ci si può rivolgere per visite ambulatoriali o domiciliari e consulti telefonici. La guardia medica turistica insomma quando si è in vacanza lontano da casa assolve di fatto a tutte le prestazioni fornite generalmente dal proprio medico di base come la prescrizione di farmaci, la richiesta di indagini specialistiche, il rilascio di certificati di malattia e se necessario la proposta di ricovero. Nei giorni in cui non è attivo il servizio nella propria località ci si può rivolgere ai medici di base per visite a pagamento occasionali secondo tariffe previste dall'accordo nazionale che poi vengono rimborsate a seguito di presentazione della ricevuta alla propria ATS o ASLA di appartenenza. Come sempre per tutti gli interventi di emergenza e urgenza è attivo tutti i giorni H24 il numero unico 112. L'agenzia di tutela della salute della montagna spiega il direttore generale Maria Beatrice Stasi sta compiendo un notevole sforzo organizzativo anche alla luce delle note difficoltà per il reperimento di medici disponibili ad incarichi in aree montane per assicurare il servizio al territorio tra quelli a maggiore vocazione turistica in Lombardia e non solo. Un grazie viene rivolto anche ai sindaci per la collaborazione prestata al fine di favorire le migliori condizioni di svolgimento dell'attività da parte dei medici. In provincia di Sondrio la guardia medica estiva è presente a giorni e orari variabili sia per visite ambulatoriali che a domicilio nelle seguenti località Livigno, Bormio, Val Furva, Val di Dentro, Insolaccia, Aprica, Teglio, Chiesa in Val Malenco, Caspoggio, Lanzada, Madesimo, Campodolcino. Tutte le informazioni necessarie sul sito www.ats-montagna.it